Perché siete qui a manifestare oggi? Oggi siamo qui a manifestare perché ieri la consulta ha ancora una volta in questo Paese tagliato un pezzo di democrazia. La libertà dei cittadini di esprimersi in un referendum che sarebbe passato a grandissima maggioranza è stata vietata agli italiani. Questo qua è una cosa che noi non accettiamo, è una scelta politica e non è una scelta sicuramente dettata da tecnicismi. Questa è una vergogna, è una vergogna per il Paese e noi ne siamo assolutamente d'accordo. Ma come dice Matteo Salvini non finirà qua, la Lega andrà fino in fondo per difendere il diritto dei lavoratori, per difendere il diritto degli esodati. Questo Paese più passa il tempo e più ci deluge come ci delude questo governo.